Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Engina Kurek, protagonista di My Name is Farah. La serie, che ha incontrato il pubblico su Fox TV mercoledì sera, offre una grande interpretazione. L'attore, che vediamo Tahir nella sceneggiatura della serie, collabora. Sul set, Vimetos Demir e il pubblico apprezzano l'energia e l'armonia del duo. Engina Kurek ha fatto un grande passo avanti nella sua carriera grazie alla serie TV My Name is Farah. Lo ha fatto in pochissimo tempo. Ascolti a doppia cifra dei primi episodi della serie. La serie, che ha iniziato le trasmissioni a settembre, è all'ordine del giorno da molto tempo. Ciò dimostra che milioni di spettatori sono sullo schermo per guardare la serie. Engina Kurek è diventato improvvisamente famoso, ma chi conosce la sua timidezza lo sa. Sa che non gli piace essere elogiato e questo lo imbarazza. L'attrice che odia quando la gente le racconta delle sue giornate e del suo lavoro. Nessuno dovrebbe parlarmi del suo lavoro. Non mi interessa. Non ho trattato nessuno come mio fratello, e non l'ho trattato come un fratello. Non dire alla gente del regista. Non voglio che nessuno me lo dica. Engina Kurek, ospite del programma YouTube, ha condiviso alcuni dettagli su se stesso. Afferma di non essere una persona arrogante e ipocrita. La giovane attrice, che trova strana questa situazione sul set. Ha espresso la sua timidezza con queste parole. Non mi piace mettermi in mostra. Non mi piace quando la gente dice cose carine su di me. Nessuno mi elogia. Esprimendo l'entità della sua timidezza con queste parole, l'attore ha ammesso di non poter posare per Engin. A Kurek, che non è molto bravo a presentare e presentare. Durante un lungo viaggio in macchina. Cantava tutto il tempo in macchina e quindi la sua voce era rauca. Questo è stato il caso delle nostre notizie, se ti piace, non dimenticare di premere il pulsante mi piace e iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.